È arrivato mercoledì chiedendo la prima cosa che ha chiesto, chi ha vinto dopo aver vinto la prima, la seconda subito, consecutivamente, sono in otto, sono in otto e adesso diventano nove, adesso diventano nove, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia! Dopo nove anni la Ferrari torna sul gradino più alto a casa nostra, Charles Leclerc vince a Monza, un trionfo, una gara maestosa, strepitosa, emozione pura, emozione pura questo ragazzo, Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia, Bottas secondo!